Decima candelina per la particolare mostra 45 ceramiche da 45 cm che dal 2007 ad oggi ha coinvolto nomi importanti del panorama artistico campano ed internazionale. Da Pietro Lissa del 2007 ad Alfonso Mangone nel 2009, da Franco Longo nel 2013 a Riccardo Dalisi nel 2014 e per il 2016 Alessandro Mautone. Così come i suoi predecessori anche l'eclettico artista napoletano si è quindi cimentato con i 45 piatti delle fornaci Falcone alle quali si deve l'intuizione con Alfonso Andrea di creare la particolare iniziativa i cui risultati sono stati esposti anche quest'anno presso linee contemporanee a Salerno dalle 9 alle 20. Mautone napoletano è il primo vero ceramista ad impegnarsi per la rassegna delle fornaci dopo essersi avvicinato alla terracotta negli anni 70 con i fratelli Liguori a Vitri sul mare. Innanzitutto quest'anno per l'anniversario, per i primi dieci anni di questo progetto abbiamo un'artista che in effetti è un ceramista puro di razza che è il primo dei dieci, cioè gli altri erano artisti prestati alla ceramica, il ceramista vero, puro è Sasamotone, cioè quest'anno per la prima volta abbiamo avuto in azienda un artista che non c'era bisogno di mettere vicino al verde ramino, verde, cioè il colore verde, perché come voi ben sapete in ceramica a freddo, a caldo poi si trasformano alcuni colori. Pertanto è una materia che lui conosce non bene, benissimo, la frequenta tutti i giorni, 365 giorni all'anno da 50 anni, da 40 anni, pertanto è bravissimo, siamo stati facilitati sotto questo punto di vista. Riccardo Dalisi, uno degli artisti più importanti che abbiamo a livello internazionale, i suoi piatti l'ha realizzati in una settimana. Chiaramente Sasamotone fa un altro tipo di lavoro, un lavoro che io lo definisco certosino, un lavoro dettato da linee continue dove lui ci va e ci ritorna sopra più volte, pertanto è un lavoro molto delicato, molto raffinato, elegantissimo, d'altronde i piatti parlano da sole e quello che io sto dicendo è soltanto la testimonianza del lavoro straordinario di Alessandro Mautone. Io praticamente ho sempre praticato questo tipo di artigianato, in effetti, diciamo che per me non è una cosa nuova, la dimensione è una dimensione non particolarmente difficoltosa perché non è così grande, a volte ho fatto anche cose di grandi dimensioni, più che altro il tempo, riuscire a fare 45 piatti tutti in una volta, però ho usato le immagini, i temi che ho sempre trattato nel mio lavoro e quindi c'è una specie di rappresentazione in sintesi di quello che ho sempre fatto.